Il Signore è la nostra forza e ce la faremo, eh? Mercoledì andrò a fare, no, mi hanno detto, oggi è lunedì, giusto? Ecco, mercoledì o giovedì, non lo so, devo andare a fare il tampone, i segni ci sono tutti, quindi è inutile che lo fai, ok, vabbè, vediamo, fidiamoci dei medici, eh? Voi come state, brava gente? Però andiamo, già abbiamo perso molto tempo, no? Per un po' di ciance, ma andiamo a quello che il motivo è del nostro camminare con la bussola del Vangelo. In quel tempo Gesù è entrato di sabato nella sinagoga, Cafarnao insegnava ed erano stupiti del suo insegnamento. Egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scrivi. Ed ecco, nella loro sinagoga, vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò a gridare dicendo, Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio. E Gesù gli ordinò severamente, Taci, esci da lui. E lo spirito impuro, straziandolo e gridandolo forte, uscì da lui. Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda chi è mai questo. Un insegnamento nuovo, dato con autorità, comanda persino agli spiriti impuri e gli obbediscono. La sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione della Galilea. Bellissimo questo, questo Vangelo, eh. Io nel, nel testo, ho titolato Abbandonare la pigrizia. In Buongiorno, brava gente, abbiamo titolato Abbandonare la pigrizia. Un po' il motivo centrale. Però, con voi volevo aggiungere, prima di andare al commento vero e proprio, se avete notato, si apre con la parola autorità, cioè Gesù insegna come uno che ha autorità, e poi termina, no, un insegnamento nuovo con autorità, dato con autorità. È bellissimo questo, questo termine, sapete, brava gente. Questo ve lo dovete segnare, perché non c'è scritto, eh. L'autorità, c'è questa differenza tra autorevole, autorevolezza e autoritario, no, eccetera. Ma l'autorevolezza, uno che ha autorità, è qualcosa che viene dal, viene dal di dentro, cioè dallo spessore della persona, dal vissuto della persona, dal modo come tratta, come viva, come parla. Ed è bellissimo che la gente si accorge che Gesù non è uno che ha autoritario, ma uno che ha autorevolezza. Però la cosa più interessante che volevo condividere con voi sono due cose. Intanto ci rimanda al viaggio di Dante nella Divina Commedia quando si rivolge a Virgilio, no, che lo deve guidare e sentite come gli dice, è bellissimo, tu sei il mio maestro e il mio autore, no? Dante vicino a Virgilio, quindi lo riconosce maestro, ma anche autore, cioè fonte, guida, e questo mi sembrava una concentrazione molto intensa, molto forte. Però poi ne ho trovato un'altra che che l'autore, l'autorevolezza viene da un verbo che significa augere, bellissimo, augere, cioè augere, cioè che accresce, che fa crescere, è bellissimo, brava gente, segniamocelo questo. cioè l'autorevolezza che le persone trovano in Gesù significa che quell'autorevolezza mi fa crescere, è stupendo, eh? Rispettando la mia libertà, rispettando quello che sono, però mi fa crescere. Ecco l'autorevolezza di Gesù che fa crescere, eh? L'autore è l'artefice, il primo genio, il modello, il maestro, la fonte, la guida, la testimonianza, colui che fa crescere da, appunto, dal verbo augere, è bellissimo, cioè sorgere, è bello, io lo trovo stupendo, non so voi brava gente, eh? E allora con questo, con questo orizzonte noi leggiamo meglio il Vangelo di stasera, eh? Che è stupendo. Il Vangelo di oggi ci rivela una delle verità più importanti del nostro cammino. Poi vi leggo una lettera che mi è arrivata di un... Ma non ve l'anticipo, subito dopo, dai. Facciamo un pellegrinaggio simbolico e andiamo insieme alla sinagoga. Come Gesù va alla sinagoga, eh? Siamo chiamati anche noi, no? A far sì che la Chiesa diventi poi la meta del nostro pellegrinaggio. E' il Vangelo della guarigione di un uomo posseduto dal demonio. I teologi affermano che in questo episodio sta la rivelazione del figlio di Dio. Ed è verissimo, no? Parlano di segreto messianico, i demoni che riconoscono, no? Il figlio di Dio perché questo indemoniato dice tu sei venuto a rovinarci, eccetera. Però c'è anche un'altra grande verità. La parola ci fa capire quando sia necessario e vitale pregare, dedicare tempo al Signore senza trovare scuse. ce lo dice sono le ore 21. Il demone stesso sei venuto a rovinarci? In queste parole, guardate, brava gente, nelle parole del demonio sei venuto a rovinarci? C'è tutta la verità di chi non vuole incontrare il Signore. del fatto che a volte non vogliamo andare alla celebrazione eucaristica, del fatto che a volte scartiamo la parola, scartiamo un po' il centro, significato della nostra vita. Cioè, non vogliamo mettere mano alla nostra vita. Ci troviamo bene nelle nostre abitudini, nella nostra pigrizia. Ecco perché io ho titolato Abbandonare la pigrizia. Il diavolo dice proprio questo sei venuto a metterci in discussione, a sconvolgere i miei progetti. Ecco la domanda allora che può sbloccare l'incontro con il Signore. Siamo chiamati ad abbandonare la pigrizia, brava gente, eh? Nel testo troviamo poi un'espressione intrigante. La gente è stupita dell'insegnamento di Gesù. Infatti, la sua parola è piena di autorevolezza. I latini... Scusatemi, ma... Devo prendere... Ecco qua. Diciamo che il covid non dà pace, eh? Vi stavo dicendo allora, brava gente, che la parola è piena di autorevolezza. Gli aspetti parlano dell'autorevolezza il termine greco exusia, no? Che cioè significa che in Gesù non vedono un mestierante della fede, eh? A volte noi preti facciamo i mestieranti, no? E non... Sì, ho tempo, vedo l'agenda, ma fammi vedere... Cioè, non abbiamo capito niente. Cioè, anche noi abbiamo perso la bussola, e brava gente. In Luca troviamo un'immagine ancora più forte. La gente pendeva dalle labbra di Gesù. Suspensus erat, eh? Dice la traduzione latina, è bellissimo. insomma, qui dico come Marco e Luca, con Marco e Luca ci accorgiamo che la brava gente, eh? Che siete anche voi, ha un proprio ineffabile senso della fede. Cioè, coglie, eh? Coglie eh? Nell'insegnamento di Gesù la sintesi di tutta la volontà di Dio, e cioè l'amore. È bellissimo. La liberazione è possibile solo attraverso l'amore. Ecco perché riecheggiano le parole di Bertolt Breck, questo grande poeta, grande drammaturgo. Tu, Gesù, ci sei davvero necessario. Glielo diciamo. Gesù, tu ci sei necessario. O no? O sta così, no? Sul comodino o nella libreria, no? Tu ci sei necessario, eh? Glielo scriviamo, brava gente, nei nostri commenti. Tu ci sei necessario, Gesù, eh? Pendiamo dalle tue labbra, Gesù, no? E io penso che questo sia bellissimo. E se lui è necessario davvero, eh? Se è davvero necessario, allora noi riusciamo a sconfiggere il demonio, le tentazioni, ed è vero. E anche se cadiamo, siamo pronti a ricominciare. Non siamo lì a piangerci addosso. Ricominciamo, eh? Se lui veramente è il necessario, eh? Della nostra vita. Termino poi sempre con la pennellata francescana, brava gente. Lo stiamo scrivendo, tu ci sei necessario, signore, eh? Lo condividiamo? Questo tu ci sei necessario, condividiamolo, brava gente, condividiamolo, eh? Non abbiate timore a mettere, a condividere, perché, perché, cioè, uno dice, quando si fidanza, no? Dice, va che fa? Va dai genitori, va dagli amici, io presento la mia ragazza o il mio ragazzo, Ci tiene, perché è diventato importante per lui, per lui o per lei, no? Quella parte, allora la presenta agli amici, no? Eccetera, eccetera. Non facciamo quelle coppie che si chiudono, eh? No? Cioè, le coppie si aprono, eh? Lo dica ai giovani, eh? Ai giovani, cioè, aprirsi agli altri, non facciamo cric e croc, no? La vita è bella che si apre, però le vere esperienze d'amore, quando il fidanzato c'è la ragazza o la ragazza c'è il ragazzo e fa, lo presenta agli altri, Devo far vedere, è una cosa bella, ecco perché il senso della condivisione, no? Cioè, questo, senza fare i fondamentalisti islamici, io dico, no? C'è una pacatezza, una bellezza, se volete anche una, una morbidezza nell'essere cristiani, una gentilezza nell'essere cristiani, che è quello che poi dovrebbe suscitare lo stupore, il fascino. Dicevo, termino con questa pennellata francescana e poi questa lettera bellissima che è arrivata, penso a un affresco nella Basilica Superiore di Assisi, San Francesco libera la città di Arezzo dal demonio, loro voi volete sapere come sconfiggere il demonio, eh? E qui ci abbiamo, non solo questo episodio ce l'ha detto, andare nel tempio, eh? Superare la pigrizia, ma ci sono due grandi atteggiamenti, per liberarci dal male abbiamo bisogno di due grandi consapevolezze, la prima spirituale e la preghiera, no? Gesù va al tempio, eh? Francesco prega, Gesù nel Vangelo si trova nel tempio, mentre nell'affresco, nell'episodio affrescato da Giotto, accanto a Francesco, c'è Silvestro che prega, quindi vedete, c'è per vincere il demonio è necessaria la preghiera, eh? La seconda invece, non solo quella, ma io ho pregato, no? Poi c'è anche l'impegno, il secondo atteggiamento e sono i gesti che Gesù compie e anche Francesco compie, che sono dati dall'impegno, eh? Dall'impegno, cioè Gesù che allontana Gesù che mette in discussione la vita dell'atto, cioè rivedi la tua vita, no? E anche Francesco che ha quella mano protesa, no? È proprio un gesto che caccia il demonio, quindi due cose, la preghiera, eh? E l'impegno concreto, questo ci regala, eh, alla base di tutto, eh, la pigrizia, superare la pigrizia, vincere la pigrizia, ma io oggi non ho voglia di pregare, ma io oggi non, voi già lo fate, brava gente, che lo sapete cosa bene, lo sapete cosa penso io, eh? Penso che, che, che già il fatto che ci troviamo tutti insieme attorno alla parola già è un miracolo vivente, eh? E che il Signore ci aiuta, tonifica la nostra esistenza. Andiamo avanti, andiamo avanti prima dei saluti, vi volevo leggere, perché mi è arrivata una, vediamo un po', se non l'ho persa, eccola qua, ah, una piccola email di, dove sta? Eh, Iliana Mammino, mi ha mandato una frase di Madre Teresa di Calcutta, molto bella, che dice, le parole che non diffondono la luce di Cristo aumentano l'oscurità, quindi usiamo parole animate dalla luce, eh? animate dalla luce. però poi, andiamo un po', eccolo qua, eccolo qua, no, questo no, e dove sta mannaccia? Ah, eccolo qua, l'ho trovato, l'ho trovato, l'ho trovato, un pastore maschritto dalla Sardegna, un, lo saluto, Salvatore, eh? Dice, buonasera, padre Enzo, era da un po' che pensavo di iscriverti, poi va avanti, ok, ok, mio figlio positivo, ma grazie a Gesù non ha sintomi, gioca molto e fa tanto baccano in casa, e questo ci gratifica, poi va avanti, va avanti, ma ecco qua, ecco qua, io sono un pastore di pecore, e ogni volta, sia la mattina presto, che la sera, la seguo, le sue conversazioni, mi tengono compagnia, esco di casa alle 5, sistemo il gregge, e poi lo porto al pascolo, da solo, nella montagna, al freddo, sto con loro, e contemporaneamente, ascolto, la messa, e anche la mattina, per me è un piacere, mi riempio di gioia, però la, poi continuo, descrivendo un po' la famiglia, tanto numeroso, un figlio di quasi 16 anni, una figlia di 13, due gemelli maschi, di 6, e avanti, avanti, e papà anzianotto, che lo saluto, 82 anni, coraggio, però questa frase, io ho scritto che la leggevo, questa lettera, perché è un pastore sardo, e, 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 fa riflettere un po' su Gesù, buon pastore, che lui esce con le pecore, anche quando fa freddo, e sta con loro, la mattina, eh, e sta con loro, durante la giornata, vedete, qui c'è proprio il simbolismo, di, di Cristo buon pastore, che sta con noi, eh, che prende il freddo con noi, che soffre con noi, eh, avvertire proprio, perché Gesù usa molto spesso, l'immagine del buon pastore, ecco, qui abbiamo, una, una testimonianza, vivida, bella, 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 eh, ecco, ti volevo dire grazie di questa mele, l'ultima, l'ultima invece, mi ha scritto, ecco qua, Assunta De Stefanis, ha detto, parenti ce lo dica, che la preghiera, eh, funziona, ha scritto in maiuscoletta, ascoltate, eh, tempo fa avevo chiesto preghiere, per diverse persone, che stanno soffrendo, in mezzo c'erano, Edoardo e Samuele, ebbene, oggi il piccolo Edoardo, è uscito dall'ospedale, ed è tornato a casa, e Samuele in coma, senza riconoscere, ora sta meglio, eh, e riconosce, e viva, la preghiera di tutti, della brava gente, grazie con tutto il cuore, vorrei lo sapessero, che la preghiera, ci aiuta, che la preghiera funziona, ecco una bella condivisione, questa brava gente, la preghiera funziona, eh, lo scriviamo, lo scriviamo, la preghiera funziona, eh, funziona, e ci fa funzionare bene, eh, e ci fa funzionare bene, andiamo avanti, vada ai saluti, brava gente, eh, stasera, vi dico, cosa mi hanno portato, un po' di carne, è una parmigiana, è una parmigiana, quindi non la voglio far far fredda, eh, eccoci qua, eh, ringrazio tutti, eh, tutti per i messaggi, per i gesti, permettete di salutare tutta Scala, stasera, eh, e anche tutta la costiera marfitana, che so che i casi aumentano, ma anche nel nostro paese, poi di fatto, e quindi una carezza a tutti quanti, brava gente, eh, una carezza forte, che diventa preghiera, eh, forti, eh, forti, andiamo ai saluti, dai, allora, Anna Paola, ha detto per il babbo, e poi mi avete richiesto il numero, ve lo ridò, per chiedere, ecco qua, buongiorno, brava gente, chi non ce l'ha, 3 6 6 6 0 4 4 7 5 4, 3 6 6 6 0 4 4 7 5 4, lo trovate però pure in tutte le librerie, in modo particolare quella, quella Mondadori, questo numero è quello di Alessandro, che è diventata la libreria di fiducia a Roma, eh, a Roma, a San Giovanni da Terano, eh, l'email ve la do, se mi sono dimenticato qualcosa, richiedetemelo, non mi offendo, enzochiocciolasanfrancesco.org, enzochiocciolasanfrancesco.org, ok, poi saluto Dilva Ronca, coraggio anche a te, eh, forte, poi Rossanna di Campli, la figlia Michele fa 21 anni, auguri da Rossanna, e da Camillo, ogni bene, ogni bene, forte, Michela, forte, eh, avanti, poi Lisabetta, eh, un saluto alla figlia Ilaria, eh, Lisabetta, coraggio, avanti Ilaria, forte, poi Nadia Massolini, la figlia Chiara fa 20 anni, Chiara, ogni bene anche a te, eh, quindi abbiamo dei ventenni stasera, eh, avanti, forti, eh, San Francesco sia la vostra gioia, eh, ragazzi, saluto davvero tutti i gruppi di ragazzi e giovani che, che, che si collegano la sera, un abbraccio forte, eh, poi Paola Donato, 65 anni da Reggio Calabria, Paola, ogni bene, edda francese, oggi fa il compleanno, 64 anni, e ha detto, per il mio compleanno, un saluto, ai due figli, Giulia e Oreste, avanti, forte, che bello, la mamma, fai il compleanno, e pensa ai figli, straordinari, eh, poi Salvatore l'abbiamo salutato, Assunta de Stefano, l'abbiamo detto, eh, e basta, ci siamo, ci siamo, buonasera, brava gente, eh, buonanotte, brava gente, perché si affaccia domani, buona giornata, brava gente, e coraggio, eh, forti, forti, io giovedì, venerdì, faccio il tampone, e speriamo di, eh, di, di, di andare avanti, ok? eh, avanti, 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 ogni bene, è la preghiera vicendevole, San Francesco vi benedica, vi sostenga, Amen. Grazie. 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 Grazie.